Siamo a Bagnara Calabra, il portone come vedete alle mie spalle del plesso scolastico Morello è chiuso, infatti 300 studenti lunedì non siederanno fra i banchi. Questo perché la scuola non ha superato i controlli antisismici e l'amministrazione comunale ne ha decretato la temporanea chiusura. Siamo uomini e donne, siamo papà e mamma, siamo nonni e siamo persone responsabili che si sono assunte l'onere di fare delle scelte per senso di responsabilità, per senso del dovere, ma soprattutto sapendo che la nostra zona e la Calabria è a grande rischio sismico. Niente campanella di inizio anno quindi per sei classi, si tratta di 300 alunni di un'età compresa tra i 3 e i 14 anni, ossia scuola dell'infanzia, primaria e media. Per loro le elezioni inizieranno il primo ottobre, garantisce il comune che nel contempo ha scartato l'ipotesi di turni pomeridiani e sta preparando il piano di suddivisione degli studenti in altre strutture. I cittadini di Bagnara però si dividono sulla scelta attuata dal sindaco. Per me si deve chiudere, se è inalgibile si deve chiudere, i bambini devono essere protetti. Questo deve essere fatto prima, non adesso, all'inizio dell'anno scolastico, perché il plesso è lì, è da anni che è lì, quindi il controllo è andato fatto prima, non adesso. Se io devo andare, mia figlia, che so che in una scuola che non va bene, che ci sono problemi, non dico che è meglio tenerla a casa, però l'amministrazione comunale dovrà provvedere a trovare dei locali. Il sindaco non è che si può prendere la responsabilità di mandare a scuola i bambini, giustamente. Deve prendere delle soluzioni ben precise, in modo tale che le mamme e i genitori quando mandano a scuola i bambini debbano essere al sicuro. Angela Panzera per la CINUS24